11esima tappa del centesimo giro d'Italia dopo un secolo di attesa la carovana rosa arriva nell'alta valle del Savio partenza simbolica dal paese di Gino Bartoli scusate, Gino Bartali, ponte Aema ma realmente la tappa inizierà a Bagnaripoli per concludersi in un altro bagno, bagno di Romagna e sto pensando agli affari miei tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei oh quanta strada nei miei sandali quante navra fatta parte quel naso triste come una salita quegli occhi allegri da italiano in città se Painted Black era un vecchio cavallo di battaglia dei Rolling Stones la parola d'ordine degli abitanti del nostro comune Painted Pink, dipingi le rosa centinaia le cose, soprattutto biciclette che sono state dipinte per la gioia delle ferramenta con quello che è il colore della maglia del ciclista più veloce lo scatto dei velocisti è stato opportunisticamente anticipato dallo scatto di un'ordinanza comunale che prevede il pagamento di due tasse una su tutte le biciclette rosa che occupano il solo pubblico esclusa quelle appese quelle con le ruote a terra e quelle non di colore rosa l'altra tasse riguardante l'ombra proiettata dagli ombrelli appesa lungo le vie non prevede esclusione alcuna l'impegno dell'amministrazione comunale, dei volontari e dei contestatori è senza sosta ma come si dice in questi casi l'hai voluto la bicicletta e adesso pedala ovviamente alla premiazione il vincitore della undicesima tappa festeggerà stappando un'ottima bottiglia di acqua termale gasata santanese la domanda che legge sovrana una volta che la carovana del giro sarà passata è che fine faranno tutte queste formidabili biciclette rosa? e gli ombrelli fucsia? il cielo e non solo quello è rosa sopravvanna z-x-x-x-x